Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Riuscita dai fiumi Sillaro e Santerno, ormai una settimana fa, che non riesce a defluire nel canale destra Reno, c'è un'intera porzione della città che è ancora sott'acqua, l'acqua tra l'altro, adesso ovviamente voi non potete sentire l'odore che è fedita, pulsolente, ieri è arrivata la raccomandazione dal sindaco di evitare contatto con la pelle, con l'acqua, di evitare che i bambini giochino nelle pozzanghere, si entra in questo quartiere, detto il quartiere dei musicisti per i nomi delle vie, soltanto con i trattori che distribuiscono i generi di prima necessità, acqua e cibo alle persone che ancora hanno deciso di rimanere, noi eravamo qui anche ieri pomeriggio, l'acqua è scesa soltanto di qualche centimetro, è previsto che il paese resti così a mollo per ancora almeno una settimana, perché appunto non si riesce a portare, le fratture sugli argini sono state riparate, ma non si riesce a far defluire l'acqua nei canali intorno. Quello proprio che ti volevo chiedere è infatti questa emergenza sanitaria che c'è in quella zona, ma le persone sono rimaste lì, dovevano essere evacuate, qual è la situazione con cui si trovano a convivere? Ieri pomeriggio ho fatto un giro con un trattore, era il trattore di un'azienda agricola, sopra c'era personale della Croce Rossa, un finanziario e soprattutto cittadini volontari che si sono autogestiti, devo dire che qui c'è molta polemica verso il comune, c'è stata anche una manifestazione sotto il municipio due giorni fa, mi dicevano che con questo trattore avevano distribuito 68 pasti, quindi significa che comunque ci sono ancora decine di persone all'interno delle case che non se ne vogliono andare, vengono segnalati in linea generale, non parlo di consedi, c'è anche atti di sciacallaggio, e quindi sostanzialmente ci sono cittadini che non vogliono lasciare le loro case anche per una preoccupazione diffusa. Perché hanno timore di questo, hanno timore di questo e mettono in conto anche di, come dire, di reggere l'emergenza sanitaria. Gui, hai una valutazione, c'è un commento che ti va di fare anche rispetto alle misure scelte e alla situazione di cui stiamo parlando, vista da lì, dal tuo punto di vista? Non lo so, qui siamo troppo indietro, qui vedete un paese che è ancora allagato, ma ieri ero nell'area industriale di Bagna Cavallo, dove ancora non c'è più l'acqua, ma l'acqua è diventata fango, tra l'altro fa molto caldo da ieri, anche se nel pomeriggio sono annunciati temporali e c'è una nuova allerta rossa, sia pure su un settore più ridotto della regione, ma che comunque scende da qui giù fino verso il mare, fino a verso la provincia di Ravenna. Diciamo che qui la situazione è ancora troppo indietro, ovviamente la popolazione si attende aiuti, chiede soprattutto che non ci sia burocrazia. Ci sono visto strade di Faenza ancora coperte di macerie, a Faenza, ha spiegato il sindaco, c'è una quantità di macerie da liberare più velocemente possibile, perché questo poi impatta anche sulla viabilità, pari a quella che si produce in un anno in tutta la città, che è una città di 60 mila abitanti. Quindi diciamo che qui prima la questione è risolvere i problemi immediati, riaprire, riaprire le aziende, riaprire le fabbriche, cercare almeno in dieci giorni di rendere operativi i capannoni, poi ovviamente ci sarà la questione dei soldi che devono arrivare e di tutto il resto. Grazie a Gui Chiappaventi, dobbiamo andare in pubblicità. Sì. Sì, andiamo in pubblicità e poi se vuoi restare ancora, perché ci sarà anche il sindaco di Ravenna, e quindi magari potrebbe essere interessante, come a me devi scappare. No, mi vorrei spostare, vi volevo soltanto dire che oggi è giornata di lutto nazionale, in alcuni comuni hanno riaperto le scuole, a Lugo per esempio riapriranno domani e che il conto delle vittime è salito, siamo arrivati a 15 vittime, è stato ritrovato appunto proprio nel territorio di Lugo, un cittadino di 68 anni di Fusignano, quindi appunto, come dicevo, la fase dell'emergenza è ben lontana dall'essere risolta. Io se siete d'accordo vi restituisco la linea e poi mi sposto. Grazie, grazie a Gui Chiappaventi anche per questo richiamo e ricordo della quindicesima vittima che è stata trovata ieri. Grazie, buon lavoro.